ciao a tutti ragazzi io sono Gabriele oggi sono qui per dirvi che anche io cioè non anche io da oggi sono su youtube ma anche se non ve ne frega niente allora io mi chiamo Gabriele mi presento il mio nickname è blu Gabriele ho deciso di chiamarmi così perché il blu cioè io amo il blu il blu è la mia vita cioè io sono fissata ovvio e quindi ho deciso di chiamarmi ho deciso di chiamarmi così e comunque allora io da ora in poi non sarò un vero e proprio cioè sì sarò uno youtuber però praticamente non farò video tutti i giorni fuori video quando mi annoierò oppure quando ci vedremo vedrò cosa fare vi farò i video non preoccupatevi vi farò minecraft come avete visto nella intro che a me minecraft mi piace molto allora questa prima questo primo vlog lo sto facendo con cantasia studio 8 sto dicendo tutte le ore perché ragazzi lo devo fare con vegas pro pro però non so usarlo molto bene invece a cantasia già sono avanzato io comunque ragazzi comunque ragazzi comunque ragazzi questo video sto per finire era una mia presentazione per voi se volete perché non posso iscrivetevi al canale perché non posso obbligarvi tipo iscriviti al canale non posso obbligarvi se volete iscrivetevi se non volete non iscrivetevi comunque vi volevo dire che da oggi sono anche su youtube mi porterò come ho detto mi porterò minecraft mi porterò video di giochi sul computer e poi farò video col telefono anche mi scaricherò un'applicazione da google play oppure da toy che mi farà fare i video se volete sono ormai ragazzi se volete 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 salito tutto il video se volete sono appartanto per le ore io mi porterò la mia presentazione da oggi vi porterò pure forse la mia presentazione da tutto il video 3 e poi vi porterò il video e così posso portarvi anche clash of clans ragazzi i clans che non so se alcuni dei video conoscono però io sono malato a questo gioco e mi piace molto E se volere posso cominciarlo Poi lo comincerò Poi potrò fare challenge Però non subito ragazzi Potrò fare challenge Con pure Il mio cugino Che è anche YouTube da ieri E niente ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao